Philip Pirrip, soprannominato Pip, orfano, ha sette anni Vive con la sorella maggiore e il marito di lei, Joe Gergery Pip, in visita alla tomba della sua famiglia, incontra un prigioniero evaso di nome Megwich Che aiuta Poco dopo, Megwich viene ripreso dalla polizia Pip si innamora di Estella, figlia adottiva dell'anziana Miss Evisham Donna che è mandato a curare Pip dovrebbe diventare fabbro ma tramite l'avvocato Jaegers riceve una grossa somma di denaro da un benefattore sconosciuto E può quindi godere di un'educazione nobile per diventare un gentiluomo Parte per Londra dove incontra il cugino di Miss Evisham, Matthew Pocket Ma a Londra spreca i suoi soldi, conducendo una vita da snob Il mecenato di Pip viene svelato È Megwich, il detenuto che una volta aiutò, diventato ora ricco Pip scopre che Estella, che nel frattempo ha sposato un buonanulla, è in realtà la figlia di Megwich Pip cerca di aiutare Megwich a fuggire dal paese, ma fallisce Megwich, condannato a morte, muore proprio davanti a Pip La sua immensa ricchezza verrà confiscata E con questa le aspettative di Pip che d'ora in poi guadagnerà i suoi soldi all'estero, in Egitto Da dove tornerà solo 11 anni dopo